Non lo sapevo, buono sapersi. Sì, no, questo non lo sapevo, questa è una cosa nuova per me. Non mancherò di andarci. Non lo uso perché con il computer non ho di mistichezza. Sì? Ah, argento tipo. No, va bene, adesso guarderò. Ti presvalgo ogni tanto, sì. No. No, lo uso mia figlia. No, non proprio. No, mi fa piacere. Sì, al momento uso molto poco internet. Sì, lo sapevo. No. Sì, sapevo. Ah, ma io lo uso sempre internet. L'esistenza no. No, no, grazie per l'informazione. AgendaDV.it, le farò una visita sul sito. Sì, sempre. Moltissimo momento, sì. No. No, perché non ho bisogno. No. No, non ce l'ho, non mi piace. Io vado a lettere ancora. Sì, me l'avevo già sentita l'anno scorso. Sì. Poco, però lo uso. No. Buono sapersi. Sì. No, questa qua no. 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 Grazie a tutti